Mi chiamo Lella e abito a Genova. Mi chiamo Riccardo, vivo a Genova. Buongiorno signora Lella, conosci il pesto d'aglio? Sì. Ciao Riccardo, conosci il pesto d'aglio? Sì, lo conosco. Conosci anche gli ingredienti? Certo, aglio, pinoli, parmigiana, parmigiano, olio, panna e un pizzico di sale. Conosci anche gli ingredienti? Sì, gli ingredienti sono aglio, pinoli, parmigiano, panna, olio e sale. Mi sa dire in cosa si differenzia rispetto al pesto tradizionale? Allora, nel pesto tradizionale c'è il basilico e non c'è di panna. Mi sa dire in cosa differenzia rispetto al pesto tradizionale? Nel pesto tradizionale c'è il basilico, invece qua non c'è il basilico. Conosce anche il procedimento? Il procedimento è frullare tutto, aglio, i pinoli, il parmigiano, l'olio e il pizzico di sale. E alla fine amalgamare tutto con la panna così da poter condire le trofie. Grazie. Grazie a voi. Mi sai dire anche qual è il procedimento? No, mi dispiace, non lo conosco. Va bene, grazie Riccardo. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Il pesto d'aglio. Ma cosa ha detto? Non ho mai sentito nominare il pesto d'aglio. Ecco, ora facciamo vedere come si va. Ingredienti. Attenzione, si cucina. Sono l'olio. Un po' pesante, ma molto gustoso. Niam, niam. Pinoli, pinoli. Mmm, che spik croc. Glucluc, che sapore che dò? Sono l'olio. Io mi sciargo tutto, perché la senti bene il giusto. E io ci metto un pizzico da me. Non si fa se capito. Mi chiamo salto. Il vato di realizzare, ma quello che è il moso. Mmm. Noi tutte luce, ragazzi, accogliamo tutto il sugo. E i miei, tutti insieme. Grazie.